Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme la pasta brisè, perfetta per quando non avete il tempo di preparare la pasta sfoglia o non avete in frigorifero. La brisè è facilissima da preparare e molto versatile perché potrete divertirvi a preparare tantissime ricette diverse. Dai, iniziamo! Iniziamo la preparazione aggiungendo la farina 00 all'interno di una ciotola. Aggiungiamo anche il burro che deve essere ben freddo e ridotto in cubetti. Iniziamo a lavorare pizzicando con le dita, in questo modo. Dobbiamo continuare a lavorare così con le mani fino a quando avremo ottenuto un composto sabbioso. Se volete velocizzare questa operazione potete però utilizzare un mixer. Io sto realizzando la pasta brisè nella sua versione più classica, quindi utilizzando il burro, ma volendo potreste sostituirlo anche con dell'olio. Non preoccupatevi però perché vi lascerò all'interno della ricetta su tollorosso.it tutte le sostituzioni. Continuiamo quindi a lavorare tra le mani fino ad ottenere un composto sabbioso. Solo a questo punto possiamo aggiungere il sale e continuare ancora a lavorare compiendo questo movimento così da ottenere un composto sempre più fine. Versiamo ora l'acqua che deve essere fredda di frigo e continuiamo a lavorare, questa volta però cercando di compattare il composto, così da formare piano piano un panetto. In questo punto ci possiamo trasferire sul piano di lavoro e lavorare ancora fino a quando avremo un panetto liscio e omogeneo. In questo modo. Copriamo quindi con la pellicola trasparente e facciamo riposare in frigorifero per circa due ore. Quando vogliamo utilizzare la nostra brise non ci resta che adagiarla sul piano di lavoro leggermente infarinato e iniziare a lavorare con il mattarello. Stendendola fino ad ottenere lo spessore desiderato. A quel punto avvolgiamo nel mattarello e trasferiamo all'interno della nostra tortiera. Facciamo pressione sul fondo e sui bordi così da far aderire bene la pasta brisè ed eliminiamo quella in eccesso aiutandoci con un coltello. A questo punto non resta che dare sfogo alla nostra fantasia. La nostra pasta al brisè infatti è la base perfetta per tantissime torte salate. Potete farcire in mille modi diversi divertendovi a portare a tavolo un piatto sempre nuovo. Ora come sempre vi lascio l'epilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare la pasta brisè serviranno 300 g di farina 00, 150 g di burro, 75 g di acqua fredda e 5 g di sale. La trovi su tuorlorosso.it Per preparare la pasta brisce di隊 Turische Grazie a tutti